salve a tutti sono alessio guarnotta il fisioterapista dello studio egea e oggi vi farò vedere tre esercizi per rinforzare le gambe uno da sdraiato uno da seduto e l'altro in piedi sigla per il primo esercizio ci sdraiamo a terra oppure sul letto dove preferite stendiamo le braccia lungo i fianchi oppure sull'addome e tenendo bene il ginocchio steso e punta ballerina porto sulla gamba in questo modo poi l'altra e faccio dieci ripetizioni un altro modo per fare questo esercizio è semplicemente cambiare la posizione del piede cioè tenendo la punta verso di voi col piede a martello in questo modo destra e poi sinistra questo è un ottimo esercizio anche per rinforzare i muscoli flessori dell'anca ma è un buon esercizio per rinforzare anche il quadricipite per il secondo esercizio invece ci mettiamo seduti comodamente su una sedia stendiamo il ginocchio piede a martello quindi con la punta verso di noi e manteniamo la contrazione per dieci secondi una volta passati porto giù dolcemente la gamba passo all'altra stendo punta del piede verso di me dovete portare la contrazione al massimo per sentire che la parte finale del quadricipite sta lavorando passati dieci secondi torno giù e ripeto questo esercizio per cinque volte per gamba almeno e se ce la faccio anche dieci bene per quest'ultimo esercizio invece ci mettiamo in piedi e semplicemente ci sediamo non utilizziamo le mani per alzarci premendo sulle gambe ma semplicemente le possiamo utilizzare come contrappeso quando andiamo giù in questo modo per evitare di prendere botte ok e quando vengo su le abbasso vado giù alzo le braccia vengo su le abbasso se ce la faccio le posso anche non utilizzare l'importante è non prendere botte quando vado a sedermi devo controllare il movimento fino all'ultimo guardate questo è il modo sbagliato di fare l'esercizio ok non devo mollare devo controllare il movimento fino all'ultimo se ci fossero domande come al solito lasciate un commento qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video ciao